Perché Aleba è la migliore Unione qui in Luxembourg? Uno dei principali razionali è che, tecnicamente, non hanno alcuna influenzazione politica Questo permette il membri della Unione di supportare voi come employe a 360 gradi Perché? Perché, se ci sono alcune cose che devono essere contro la legge o qualcosa che non è vero, possono essere cambiato Quindi, a livello delegativo, e molto più a livello di famiglia abbiamo il potere di reagire contro alcune legge per negoziare meglio la legge Fully concentrato, non sulla decisione politica che è limitata ma alla gente della direzione E' la principale razione E' una delegazione Se ci sono alcune cose che il governo dà una possibilità di decidere per la right o la left E chi ha un impatto politico può decidere solo per la right o per la left Ok? Ma non significa che questo sia il tuo right Non significa che questo riflette il tuo right come employe perché anche la legge se abbiamo una possibilità e che ci saranno in questa elezione di marzo 2024 per inserire in altri settori che il nostro finanziario per dare il nostro supporto un forte supporto senza un'influenza politica e solo se ci supportiamo ci siamo andati Perché? Perché abbiamo bisogno del tuo voto il 24 abbiamo bisogno del tuo voto nel marzo e se vincere avremo il right per negoziare il meglio per voi come la chambre des salariés e dopo ovviamente se avremo anche una delegazione di Aleba dentro di tua compagnia questo va specificamente per aiutare il 360 gradi perché siamo liberi a Aleba siamo liberi per fare il tuo right senza nessun'influenza l'unica che abbiamo il tuo feedback il tuo right soprattutto e il miglior ambiente per te è quello che abbiamo in mente è l'unica l'unica che abbiamo viaggia il tuo giorno e ci vediamo presto ricordate List3 Aleba